Il programma Ecologica è un programma che è stato elaborato e concepito in molte nazioni ed è utilizzabile in molti paesi europei. In particolare è importante poter lavorare ad esempio qui in Italia e poter studiare e apprendere dall'estero, ad esempio dalla Slovenia, dall'Ungheria, quindi c'è uno scambio continuo di informazioni e di knowledge. Le moderne tecnologie di e-learning rappresentano ormai uno strumento indispensabile per la formazione professionale degli operatori del settore agricolo, che non si riferisce soltanto a prodotti e servizi legati alla coltivazione della terra e all'allevamento, bensì alla tutela dell'ambiente e attraverso lo sviluppo sostenibile delle attività rurali. Nell'auditorium compagna di Castel del Lovo il tema è stato al centro di un workshop internazionale organizzato dall'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica e dal Comune. Un'occasione per promuovere un approccio innovativo alla formazione dei soggetti che sono coinvolti nella gestione sostenibile del territorio. Per la prima volta si abbinano le due più grandi innovazioni che abbiamo rispettivamente nel settore comunicazione e nel settore agricoltura, cioè l'e-learning, la formazione a distanza e l'agricoltura biologica. L'Italia è il paese leader per quanto riguarda l'agricoltura biologica in Europa, con un milione e mezzo di ettari coltivati e quasi 60.000 aziende biologiche. Ma molti non sanno che chi si forma in agricoltura biologica in Europa riceve le informazioni da un server che è situato qui a Napoli, in pratica presso l'Associazione Ecologica, che è nata come spin-off company di 16 università europee. Sulla base dei progressi scientifici maturati negli ultimi anni sarà presto aggiornata anche la carta di Napoli sull'e-learning per l'educazione ambientale. Il documento fu redatto in occasione della conferenza internazionale del 2004 con l'obiettivo di fornire le linee guida per gli operatori ed i fruitori della formazione a distanza. Noi riteniamo che il biologico possa essere una strada virtuosa per Napoli da percorrere. Sappiamo i problemi che Napoli ha vissuto dal punto di vista ambientale, e quindi c'è un riscatto della città che passa anche attraverso la proposizione di orti urbani, filiera corta, prodotti agricoli di qualità. Napoli è la città in Italia che produce una maggiore quantità di vini doc secondo il disciplinare dell'Unione Europea. Quindi anche se è una città molto grossa e molto urbanizzata abbiamo un patrimonio biologico di prima qualità. Fino al 2 novembre sarà possibile visitare il primo biodistretto europeo nel Cilento e scoprire segreti e caratteristiche di un territorio che ha saputo valorizzare le proprie risorse e tradizioni.